L'insufficienza metallica è una patologia molto più diffusa rispetto a quello che si sa. Questo è dovuto al fatto che purtroppo non sempre la diagnosi arriva in tempo e per tempo. E quindi spesso è una malattia che viene ben tollerata per molti anni, poco vista magari negli esami clinici che non sempre sono approfonditi e quindi di fatto la patologia metallica è vera, sono molti di più di quelli che in realtà noi registriamo nei nostri ospedali. Alcune delle patologie metalliche sono più prevalenti nelle donne, in realtà sui sintomi bisognerebbe mettersi d'accordo perché il malato quando va dal medico tende sempre a sottrarre qualcosa per timore di. In realtà oggi ci sono degli strumenti che aiutano il paziente a evocare i sintomi e strumenti che invece indipendentemente dai sintomi ti dicono a che punto è quella patologia mitralica. Per esempio alcuni sistemi di eco non tradizionale ma quello fatto con farmaci o l'ecografia transesofagea aiuta molto a scovare prima che diventi grave una malattia mitralica. I sintomi classici sono innanzitutto la stanchezza perché un cuore con insufficienza mitralica è costretto a un lavoro maggiore, continuo, anche a riposo. Quindi la gente spesso non associa questa stanchezza alla patologia mitralica e quindi va avanti così fino a che non compare anche l'affanno, quella che i medici chiamano dispnea, fino allo scompenso cardiaco nelle forme più avanzate. Sarebbe buona prassi che tutta la popolazione si sottoponesse almeno, come si fa per lo screening del tumore mammario, anche a uno screening cardiologico prima dei 40 anni. Questo permetterebbe già di scovare molte patologie che ancora non sono sintomatiche o non sono conosciute alla persona. Uno dei sistemi immediati per riconoscere la patologia è l'ecocardiogramma, anche se molte volte questo non basta. Spesso l'ecocardiogramma deve essere seguito da un'ecocardiografia sotto stress, quindi un particolare, sempre un'ecografia, ma un po' particolare perché viene somministrato anche un farmaco in grado di far lavorare il cuore un pochino di più, come se corresse. Oppure può essere un particolare tipo di ecografia transesofagea, quindi con un sondino attraverso il quale si capisce meglio. La migliore possibilità di essere curati per chi è affetto da insufficienza metallica è legata a delle cose che sono evidenti dal punto di vista scientifico. Primo obiettivo fondamentale per chi ha un'insufficienza metallica severa, sintomatica e quindi deve essere operato è quella di assolutamente riparare la propria valvola. Questo è importantissimo perché cambia proprio la vita delle persone, sia in termini di quantità di vita che di qualità, cioè se il chirurgo riuscirà a riparare la valvola, quel paziente vivrà di più che se la sostituirà. Quindi è un gesto rilevante che cambia la vita delle persone, oltre che la qualità, perché avere la propria valvola significa non dover impiantare una protesi, non essere costretti a prendere degli anticoagulanti, avere un rischio di endocardite, cioè di infezione della protesi ridotto di molto rispetto alla sostituzione. L'altro obiettivo fondamentale è la mini-invasiva, cioè tutte le valvole mitraliche isolate oggi possono essere riparate senza l'apertura dello sterno. Cosa cambia? Cambia perché in sostanza sottraiamo un intervento ortopedico, cioè segare in due uno sterno, a un intervento cardiochirurgico e quindi il trauma globale a cui è sottoposto il paziente è nettamente più basso. Quindi il recupero, la capacità respiratoria, la capacità funzionale dell'individuo è maggiore. Sorrido quando in alcuni centri consigliano la mini-invasiva ai pazienti giovani, magari delle belle ragazze, perché non si vede la cicatrice. È esattamente il contrario, deve essere consigliata nei pazienti più fragili, negli anziani, in quelli che hanno un torace magari che non potrebbe sopportare un'apertura dello sterno. Noi da dieci anni nel mio centro abbiamo deciso di farlo a tutti, quindi qualsiasi intervento mitralico viene eseguito solo in mini-invasiva, qualsiasi mitrale viene operata con l'obiettivo di ripararla. Quante ne ripariamo? Il 99%. Un paziente che si sottopone a chirurgia mini-invasiva della mitrale generalmente sosta in ospedale circa una settimana, dieci giorni. La riabilitazione in questi casi non sempre necessaria, anzi direi quasi mai, perché un paziente non necessita di così tanta ospedalizzazione come se aprissimo lo sterno. Poi il ritorno è anche un fatto psicologico, quindi un paziente che fa la mini-invasiva si sente molto meglio rispetto a un paziente che ha fatto la chirurgia tradizionale. Ieri ho visitato una signorina che è stata operata 15 giorni fa ed era nella sala d'attesa, ma nessuno si è accorto che era stata già operata, quindi pensavano che dovesse essere da operare. Per cui generalmente dopo 15 giorni si riesce a tornare a una vita normale, ovviamente dipende molto dal lavoro e dall'intensità del lavoro che ognuno fa, però più o meno questo è il range. Scegliere un centro di cardiochirurgia soprattutto votato alla mitrale in Italia non è facile, perché non c'è quello che gli americani chiamerebbero ranking, cioè una graduatoria di risultati sull'argomento specifico. Quindi purtroppo non c'è un'indicazione di dire vai lì perché quel centro è esperto in mitrale. In Italia l'Agenas, che è l'agenzia nazionale che si occupa dei risultati, pubblica risultati molto generici e parziali su tutti gli interventi di cardiochirurgia. Sulla mitrale purtroppo non c'è attualmente uno standard per poter aiutare il paziente a scegliere. Quindi il paziente deve utilizzare risorse online oppure sentire esperienze di pazienti. Io per esempio, che opero veramente tantissimi pazienti ogni anno di mitrale, la maggior parte di questi viene per passaparola, cioè ha saputo da qualcuno che ho già operato.